Il Governo chiede garanzia alla Regione Sicilia sulla questione rifiuti, prima del vertice fissato a Roma per il 9 novembre. Con una nota firmata dal direttore Mariano Grillo, il Ministero dell'Ambiente esercita il suo pugno di ferro e richiede una relazione dettagliata con rassicurazioni su una serie di punti specifici. Un punto fermo riguarda la raccolta differenziata. Da Roma si chiedono i dati di conferma dell'incremento rispetto ai dati del 2015. La lista dei comuni che hanno adottato il piano e quelli che ancora tardano nell'attivazione. Il Governo pretende chiarezza anche sull'eventuale disponibilità da parte delle altre Regioni di accogliere i rifiuti della Sicilia e sulla governance che riguarda la società di regolamentazione dei rifiuti. Un punto critico riguarda soprattutto l'indice di spirometria dinamico, un parametro che misura in maniera diretta l'impatto dei rifiuti in termini ambientali e di odori. Fra Dipartimento Rifiuti e ARPA, scrive il quotidiano La Repubblica, è guerra sulla biostabilizzazione della spazzatura, che dovrebbe durare 21 giorni e che invece nella nostra isola sarebbe ridotto a un periodo di 12-15 giorni. Se i termini non dovessero essere rispettati, scrive Grillo nella lettera inviata alla Regione, è facoltà del Ministero dichiarare l'immediata decadenza dell'intesa. L'assessore, Vania Contrafatto, però si dice tranquilla e dichiara quotidiano alla Sicilia, l'intesa non è a rischio, però alcune cose vanno chiarite. È rassicura sul fatto che continuerà a vigilare sull'adempimento dell'ordinanza. Grazie.